Pulman, secondo me di fianco all'autista c'è l'allenatore della Bosnia, l'incontro della Polizia Militaria sopra la nostra testa, i giocatori del Pulman, macchina della Polizia Federale e moto che si stanno avvicinando, la riuscita per scortare il metro. Grazie a tutti! Grazie a tutti 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 Ciao ciao Bosnia Grazie a tutti Grazie a tutti